La paghetta settimanale secondo me dovrebbe essere di circa 20 euro Secondo me la giusta paghetta sarebbe circa 10-20 euro Di 10 euro a settimana, dipende molto anche dallo stipendio delle famiglie Secondo me la paghetta dovrebbe essere di 10 euro Di 50 euro Sai che c'hai quei 100 euro al mese che i tuoi ti danno e te li gestisci tu Di 20 euro Guadagno anche dei soldi lavorando in un bar Di solito lavoro d'estate, faccio dei lavoretti in estate Solo la paghetta Vorrei diventare economicamente indipendente il prima possibile Dopo aver finito gli studi Appena dopo l'università vorrei diventare economicamente indipendente